ciao ragazze ciao a tutte e a tutti con un nuovo video vlog come state spero bene oggi un video così tanto per allora l'ho pubblicato uno stamattina che l'ho registrato ieri e niente oggi ne sto registrando altro sperando che vada tutto bene vabbè lo commento mi sto guardando uomini e donne non so come si possa vedere uomini e donne e nulla nel frattempo ho mangiato ho preso un caffè e poi ho preso anche un po di latte di michel di latte caldo perché avevo proprio voglia e niente e se sentite cantare non sono io ovviamente ma va questa sera capito la so c'è una signora che sta cantando a uomini e donne e niente e io nel frattempo me la goto seduta qua sul divano con qualche tempo che è già quindi io oggi sono stata quasi tutto il giorno in giro tutta la mattinata in giro e adesso mi sono soltanto qua dovrei lavare i piatti ma non so forse la mia nonna non ho l'idea e niente quindi lo vabbè aspetta che mi poggio un po sulla mia gamba perché mi sta stancando il braccio mi si sta stancando e niente ah ne ho scritto a questo come potete vedere e nulla questo è quanto già nel frattempo mi poggio guarda che non sono per metterli e nel frattempo si stiamo in piatti a suo posto 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 un po' questa è la giaccheriera come ti vengono a terra questo non c'è questa è la giaccheriera è la giaccheriera è la giaccheriera è la giaccheriera lo sta questaata è questa la riesce la stra Parte basta lavorare uppare tutte le altre e abbiamo appena si usare il condizionare perché non sono il nostro sito condizionale non importa io con la grammatica non sono questo gran tema non sono neanche malaccia con qualche un pedro che è meglio allora adesso mi dobbiamo ripiati e ve lo cito alcune parti sto usando questo della Dexon e mi metto la verità grazie 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 adesso mi dedico a chiacchierare po' con voi dunque allora ho pulito tutto il mensole e le cose della cucina ho messo adesso il telefono in carica perchè era da mettere in carico perchè era scarico e quindi anzi è scarico quasi in tutto quindi ho dovuto rimetterlo in carica ma vabbè allora dopo questo video ne farò un altro dove un altro video dei preferiti del mese di del mese di aprile scusate mi stavo un po' imparfogliando un po' parlando ma vabbè e niente adesso vi registrerò il video dei prodotti preferiti oppure dei preferiti non so guarda un po' cosa mi viene a mente e vi registro pensavo di registrare ancora non lo so niente io cosa voglio registrare però vi prometto che anzi più di altro lo prometto a me stessa perché mi piace registrare i video e mi sta bene così un bacio e a presto ciao ricordate di mettere un bel like e insomma fate diventare belli numerosi questi like non sono presuntuose forse un po' sì un pizzichino un pizzichino però non mi dispiace se arrivano numerosi questi like vabbè che youtube sta facendo un po' il pazzo ma vabbè dettagli e niente iscrivetevi e ti mette la campanella ci si vede a un prossimo video anzi dopo di questo ciao 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 ciao